Anche quest'anno le vie dei tesori coinvolgono la maestosa Ragusa, la nobile Modica e Scicli, il gioiello amato dalle fiction. Saranno esperienze per viaggiatori appassionati, si volerà di campanile in campanile, si scoprirà dove nasce il cioccolato degli Aztechi, si scenderà nelle grotte nascoste per scoprirvi un presepe. L'anno scorso la Sicilia ha risposto con entusiasmo e dalle otto città che hanno aperto i loro siti nel primo weekend delle vie dei tesori si sfioravano i visitatori con punte molto alte a Messina e nel Ragusano. E quello che due anni fa è stato solo un progetto pilota, l'anno scorso è diventato un esperimento vincente, con cittadini e turisti che si sono riversati in ciascuno dei 153 luoghi aperti. Da venerdì 4 a domenica 20 ottobre, tre weekend da non dimenticare con programmi che affiancano quelli delle due capitane, Palermo dove il festival è un appuntamento fisso da 13 edizioni e dove quest'anno aprono le porte 170 luoghi, con esperienze, eventi, passeggiate e un programma Kids. E a Catania, la sua seconda partecipazione con 50 luoghi e un bel programma di siti su prenotazione ed esperienze. Forte di un avvio splendido, le prime dieci città siciliane negli ultimi tre fine settimana di settembre hanno sfiorato gli 80.000 visitatori tra Messina, Caltanissetta, Trapani, Marsala, Ascireale, Siracusa e Noto, Sambuca, Sciacca e Naro. Le vie dei tesori ritorna dunque nel Ragusano, che riparte da un tesoretto di 21.000 presenze lo scorso anno, con il pubblico affascinato da intarsi barocchi, chiese rupestri e palazzi sontuosi. Quest'anno il percorso è ancora più particolare, 25 luoghi a Ragusa divisi tra la città superiore con le sue chiese, le rocche, i paesaggi che salgono in verticale e Ibla, miraggio di luce e di ombre, palazzi e musei. Una città che si svela in tappe gioiello per veri appassionati, come per esempio le piccole cappelle rupestri, ma anche il frammento superstite del retablo di San Giorgio, Sant'Agata ai Cappuccini con un trittico di Pietro Novelli o le mensole grottesche dei balconi di Palazzo Zacco. Ma è facile prevedere che il boom lo faranno le visite in notturna ai tre campanili, nel terzo ed ultimo weekend, dalle 18 a mezzanotte, un colpo d'occhio straordinario sulla vallata, in collaborazione con le scale del gusto. Si potrà salire in vetta alla torre campanaria di Santa Maria delle Scale, scampata al terremoto sotto cui c'è un fonte battesimale scolpito nella pece, o a Santa Maria dell'Itria. E trovare al purgatorio un campanile che è separato dalla chiesa, anzi la affianca e poggia su un tratto delle mura bizantine del castello di Ragusa. Due le passeggiate che porteranno alla scoperta dei riti della vecchia Ragusa, tra santi e processioni e alla particolarissima cava, sotto i ponti della città, tra le elatomie e forni per la calce, mulini e tombe protostoriche. Modica barocca, l'antica capitale della Contea, è pronta ad accogliere i visitatori, con le scale che si inseguono sulle colline e poi scendono giù nei dirupi. Modica è rimasta nello spirito la quarta città della Sicilia, come era un secolo fa, da scoprire in un viaggio lungo 15 tappe, con curiosità veramente particolari, dal fattoio Bonaiuto, la più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia, dove si potrà assistere a tutte le fasi di lavorazione delle dolci tavolette, alle famose botti del Campailla, dell'unico sifilicomio del Sud Italia, quando ancora la sifilida era una malattia da signori, e non ci si può esprimere da una visita al famoso Castello dei Conti, con le carceri e la cappella dei detenuti. Alla chiesa del Carmine si avrà l'inedita possibilità di visitare uno degli accessi laterali alla chiesa, un portale gotico che fu scoperto per caso nel 2008 in una casa privata. Visibile è anche l'ossario dei frati Cappuccini. Nella minuscola chiesa rupestre di San Nicolò si scoprirà l'abside bizantino, mentre a Palazzo Castro Polara Grimaldi sembra che il tempo si sia fermato a due secoli fa. Ultima ma non per importanza quella del gioiello elegante che è Scicli, accarezzata dall'UNESCO che le riconosce il valore delle facciate storiche dei palazzi settecenteschi, l'unicità di un barocco prezioso e ancora intatto. Apriranno 13 luoghi tra cui l'inedita Grotta delle Cento Scale che conduce sul serio nelle viscere della terra, dove però scoprirete un presepe in miniatura, con l'occhio imprescindibile alla fiction più conosciuta d'Italia, cercare il commissario Montalbano si può, il festival permetterà di scoprire alcune delle location più note, come la stanza dell'agguerrito impossibile quest'ore. Scopri la bellezza che ti appartiene, il claim di quest'anno ideato dall'art director Alessandro Fiore. Accarezzala, tienitela cara perché è fragile e va salvaguardata.